Buongiorno a tutti, qualche giorno fa ho fatto la recensione del film Waterloo del 1970 e abbiamo avuto modo di analizzare di come un film maestoso, un film imponente, un film che è stato però un tracollo finanziario per Dino De Laurentiis, una produzione che probabilmente era fuori tempo massimo per quel tipo di colossal e comunque una pellicola che in qualche modo andava ad anticipare se vogliamo alcuni aspetti seppur ovviamente legati a un tipo di cinema antico, un tipo di cinema molto analogico che oggi, ahimè, alcuni come me rimpiangono. E parlando di quella pellicola è stato quasi naturale voler accernare a uno dei capolavori di Stanley Kubrick, Barry Lyndon, che è arrivato sui schermi, sui grandi schermi di tutto il mondo nel 1975. Io ho fatto un parallelo ultimo su queste due pellicole andando a riprendere il discorso di Stanley Kubrick, tra l'altro, permettetemi, con l'occasione ho pensato di fare una diretta speciale su Stanley Kubrick che andrà in onda il 16, la settimana prossima, giovedì 16 alle 21, sempre su questo canale, e avrò come ospiti tre grandi esperti di cinema. Mauro Lottici, che conoscete perché abbiamo fatto insieme anche recentemente una diretta sulla cinema di guerra, abbiamo Raffaella Capitella, che oltre ad essere una carissima amica è un'esperta di cinema, ha studiato cinema, tecnica del cinema ed è specializzata su Stanley Kubrick, oltre ad essere una grande appassionata di James Bond, fa parte con incarichi di un certo apicali nell'associazione culturale James Bond Italia, e Luca Mibba Paoloni, anche lui un grande esperto di cinema, nonché sceneggiatore, attore, regista, produttore di film che potremmo dire amatoriale, ma in realtà sono molto forti, molto intensi, è uscito anche recentemente una sua opera, che magari ce ne parlerà, e anche lui è esperto anche di James Bond, nonché vicepresidente dell'associazione. Quindi diciamo che il 16 vi rinvio a questa interessante diretta che faremo in quattro, però specificamente su Stanley Kubrick. Detto questo. Quindi Barry Lyndon si inserisce nella cinematografia di Stanley Kubrick come un elemento ulteriore di sperimentazione, di una sperimentazione che può essere in certi momenti anche poco appetibile per un certo pubblico, perché comunque Kubrick ci ha abituato a delle forme, a dei linguaggi, a delle espressioni visive. Egli che era nato fotografo, sostanzialmente, egli aveva avuto le sue esperienze, le prime esperienze con la macchina fotografica, quindi aveva una grande attenzione, una predilezione per la rappresentazione delle immagini. Egli tendeva a rappresentare visivamente, ma anche con la musica, con il montaggio, ma più di quello che magari era parlato. Tant'è che molti film di Stanley Kubrick hanno dei momenti molto lunghi di silenzi, ma dei silenzi che però vengono in qualche modo sostituiti o dall'impianto musicale, e quanto la musica sarà fondamentale, soprattutto la musica classica, nell'esperienza ricorrente di Kubrick, ma soprattutto, ovviamente, il coinvolgimento emotivo attraverso anche il salto e la contrapposizione tra quello che vediamo e quello che sentiamo a livello di commento musicale. E non a caso, proprio in questa pellicola, ma molte delle pellicole, visto che Stanley Kubrick ha avuto un numero impressionante di nomination, non ha mai vinto i premi maggiori, non ha mai vinto miglior film, miglior regia, ha vinto sempre degli Oscar, i suoi film hanno vinto degli Oscar, legati alla musica, alle musiche, alle scenografie, ai costumi, tant'è che appunto Barry Lyndon ha vinse quattro Oscar, ma sempre legati a un comparto tecnico, e non tanto al comparto generale, il più blasonato, potremmo dire. Quindi, dicevo, Barry Lyndon si colloca all'interno sia della cinematografia di Kubrick, che aveva appunto avuto negli anni Sessanta un grande sviluppo, anche negli anni Cinquanta, pensiamo a Orizzonti di Gloria, poi Spartacus del Sessanta, poi Lolita, poi abbiamo avuto 2001 in Seno Spazio e all'inizio degli anni Settanta con Arancia Meccanica. Quindi abbiamo compreso la dinamica, l'evoluzione, lo sviluppo di una cinematografia di Stanley Kubrick che non solo tende a spaziare nei generi e nelle forme, ma soprattutto nel linguaggio. Un linguaggio comunicativo che non è sempre comprensibile, non è sempre immediato. Il cinema di Kubrick non è, come si può dire, comprensibile a primo acchitto, non ha una sua fruizione cotta e mangiata, non è di Tascalico. Anzi, se vogliamo, è esattamente il contrario. Ha una sua attitudine a far riflettere lo spettatore, a voler cercare di trovare la propria interpretazione al film espresso. Un po' molto come la poesia, non la poesia o l'arte, appunto. L'arte, in quanto tale, l'artista può dare, può esprimere un'emozione, ma poi è il fruitore che ne può trarre infinite modalità di interpretazione e di emozione. Quindi ecco come capiamo come l'elemento intuitivo è molto legato all'elemento soggettivo più che all'elemento oggettivo. E questo è, secondo me, la chiave di volta per capire anche Barry Lyndon. Barry Lyndon è un film che dura tre ore. È un film che parte dal soggetto liberamente ispirante di William Macbeth Tackeray, spero di averlo pronunciato bene, che è un autore della metà dell'Ottocento, che aveva scritto, tra l'altro, le memorie di Barry Lyndon, ma aveva scritto anche Vanity Fair. Quindi c'è una serie di occasioni, di una sorta di narrativa, di letteratura, particolarmente legata a temi sociali, ma che in qualche modo aveva anche l'elemento portante nel tentativo di, in qualche modo, educare, possiamo dire, diciamo come i romanzi dell'Ottocento fossero, da una parte, un po' d'appendice, ma dall'altra avessero anche una loro connotazione di formazione. Ecco, nel film di Kubrick emerge in maniera molto intensa, e questo ovviamente è lo stesso Kubrick, lo stesso che ha curato anche la sceneggiatura, sappiamo l'elemento maniacale di Kubrick, una capacità, una volontà di essere particolarmente legato a un perfezionismo estremo, tanto da crearsi notevoli difficoltà con la troupe, con gli attori, un problema anche gestionale, esaurimenti nervosi, tentativi, in qualche modo, di rompere, con gli attori di Kubrick era difficile lavorare, perché egli aveva appunto un'attitudine molto, molto legata a un perfezionismo esasperato, che portava un po' all'esasperazione anche coloro che lavoravano con lui, nel non sapere mai se un atteggiamento poteva essere fatto rispetto a un altro, quindi ci si aspettava un'iniziativa limitata, perché tutto era legato a quello che egli scriveva o diceva. Bene, dicevo, quindi Barry Lyndon ci rappresenta in maniera molto scenografica, e qui arriviamo al nocciolo del film, un film, dicevo, che dura tre ore, che ha due parti, la prima di ascesa e la prima di declino, perché racconta sostanzialmente la vita del protagonista. Di Barry, questo Barry, che poi diventerà Barry Lyndon, che è sostanzialmente un ingenuo, a volte un ingenuo, a volte cinico, seriamente legato alla fortuna, al fato. Egli non è pienamente l'artefice delle sue fortune, ed egli non è neanche effettivamente partecipato alle sue sventure. Egli vive legato al correre, all'approfittare o al subire determinate circostanze, non avendo neanche la volontà, la chiara volontà, la consapevolezza di quello che gli sta accadendo. E questo viene sostanzialmente poi mascherato da questo suo estremo cinismo, nel saper comunque cogliere le occasioni fortuite che gli vengono offerte, ma, e anche quindi le sventure, ma non sapendo poi, in qualche modo, determinarle. Egli subisce sempre. Subisce, ma ne approfitta. Subisce e ne soffre. E questo è un elemento molto interessante che accomuna, possiamo dire, questo tipo di antieroe a tanti altri antieroi che esistono nella cinematografia di Kubrick. Dimenticavo il Dottor Stranamore, ecco, stavo pensando che avevo dimenticato qualcosa negli anni 60 ed era giustamente il Dottor Stranamore. E quindi abbiamo come un elemento che pensavo a Sellers di Lolita e ovviamente poi, dico, ma Sellers ha fatto anche il Dottor Stranamore. E quindi abbiamo una sua connotazione di questi personaggi, a partire appunto dal protagonista di 2000 e se nello spazio, che si trova appunto in un'odissea, in una situazione in cui non è un Ulisse, è un uomo che in qualche modo sì, si ingegna, ma si ingegna perché comunque subisce le situazioni, un po' come il protagonista di Lolita o il protagonista di Arancia Meccanica, in cui le situazioni, seppur egli sia in qualche modo attivo nell'approfittarne o nel diventarne vittima, in qualche modo è sempre lui che ovviamente subisce le situazioni, è molto oggettivo, cioè è passivo rispetto a essere attivo nella determinazione degli avvenimenti. Altro tassello importante ovviamente per analizzare, che potremmo dire quasi fondamentale del film è l'elemento scenografico. Kubrick ci rappresenta il Settecento, un film che si colloca cronologicamente con la sua evoluzione degli avvenimenti nella seconda metà del Settecento, dalla guerra dei Sette anni fino alla vigilia della rivoluzione francese, con un contesto molto vario tra l'Irlanda, l'Inghilterra, la Germania, la Francia, quindi diciamo una sua connotazione molto variegata nel tessuto anche socio-economico con le profonde differenziazioni e quindi anche un film in costume, ma di costume, perché rappresenta veramente il tipo di società che viene declinata nelle varie forme con tentativi di rampantismo, di un parvenue che però è sempre tale, quindi in qualche modo è destinato per qualche motivo a tornare ad essere un miserabile. E questo ovviamente è all'interno di una cornice potremmo dire quasi teatrale in cui Kubrick, anche qui con la mania di rendere visivo con una fotografia eccezionale, non vengono utilizzate mai luci elettriche, tutto al naturale, che siano esterni o che siano interni con l'utilizzo di candele, con l'impiego di particolari ottiche ZEISS utilizzate dalla NASA, quindi con una serie di espedienti di alta tecnologia che in qualche modo volevano essere la risposta antitetica rispetto all'effetto speciale. Cioè io voglio rendere la cosa naturale e per rendere la naturale utilizzo dei mezzi talmente estremi che mi riportano quella stessa naturalezza. Una naturalezza appunto che è semplificata attraverso il tentativo non tanto di essere realistici rispetto a quello che il Settecento fu, anche perché non lo sappiamo come fu effettivamente il Settecento nella sua essenza quotidiana, ma come l'arte, in questo caso la pittura, rappresentano il Settecento. Quindi veramente ci troviamo di fronte un edilizzo maestoso, un edilizzo appariscente di quello che viene trasposto a livello visivo che possa meglio assomigliare all'arte del Settecento, un'arte molto ancora barocca, potremmo dire, con degli elementi di alto sfarzo, ma già con delle tonalità che appunto sono molto più vicine a quelle dell'Ottocento, possiamo dire, quindi un elemento di passaggio nell'arte moderna e quindi l'arte moderna intesa in senso moderna dell'epoca del Settecento con un elemento di passaggio da quello che magari era un'arte più legata a disegni, a elementi geometrici, a elementi di sfarzo che appunto dall'umanesimo, il Rinascimento fino ad arrivare al primo barocco, beh, arrivare a un discorso molto più maestoso, molto più ricercato, molto più coinvolgente, ecco questa poi la pittura, quella fiamminga, quella britannica, diciamo, che ha degli elementi molto molto forti con delle colorazioni anche scure, no? però che rendono una intensità dell'elemento dell'affermazione, della passione, diciamo, in Italia, secondo me, uno degli univoghi in un periodo precedente, che in qualche modo si avvicina a Caravaggio, che in qualche modo ha delle sue rappresentazioni così intense, così passionali, così coinvolgenti, e questo Kubrick lo evidenzia in maniera molto molto specifica, appunto, nella rappresentazione scenica, in immagini, in immagini che quasi sembrano ferme, non è più, non è tanto cinema, cinema nel senso di movimento, ma quasi fotografie istantanee, non è che alcuni lo hanno criticato, perché dice, beh, sono tre ore di fotografie, sostanzialmente, perché molto spesso non ci si accorge che vi è la vita, ma è un elemento di elemento statico, beh, però l'elemento statico è funzionale, l'utilizzo di di allontanamenti, no? Cioè, le scene in cui si allontana da uno sguardo, si passa dal particolare al generale, in cui appunto la soggettività dell'individuo poi diventa una sorta di lente di ingrandimento di quello che accade nella sua elemento più maestoso e quindi anche per la rappresentazione secondo me anche psicologica dei personaggi e quanto l'elemento psicologico è sicuramente presente nella filmografia di Kubrick, pensiamo poi a Shining, a Full Metal Jack, a West Shut, quindi con la sua progressione di sempre più elemento di analisi psicologica, di analisi dell'individuo singolo, buttato da solo o quasi da solo all'interno di un contesto generale a lui avverso, a lui ostile, e qui lo troviamo appunto le varie società e le varie anche ambientazioni socio-politiche, no? a partire da Spartacus per dire, ma per arrivare appunto a 2000 all'interno spazio, Arancia Meccanica, Shining, con delle sue contrapposizioni anche nel rapporto tra individuo e società, tra singole e collettività e qui in questo caso Barry Lyndon perché lui è diciamo il corpo estraneo, Colui che si è inserito, lui che è un è un l'espressione di una società bassa, Di una di una bassissima borghesia contadina dell'Irlanda che in qualche modo gigiona e cerca di arrivare alle corti europee quindi in c'è tenta di affrancarsi socialmente, economicamente ma è inevitabilmente non è capace a farlo, cioè è riuscito in maniera cinica in maniera spregiudicata in maniera brutale a ottenere delle fortune che però non è capace a gestire e si vede l'elemento secondo me più veritiero più autentico nel rapporto con il figlio nel figlio che in qualche modo è il senso della sua vita e in qualche modo è il senso della sua vita ma è un senso anche questo viziato dall'impossibilità di mantenere un affetto e quindi ecco poi come il fine è il finale l'elemento anche tragico dei due duelli il primo duello e il secondo duello il primo duello è un po' l'apertura delle sue fortune quel tentativo quell'occasione che lui subisce perché quel duello non è tanto voluto cioè sì è voluto nell'elemento specifico ma gli permette inconsapevolmente di iniziare un percorso di vita completamente periglioso all'inizio ma in qualche modo che gli permette di trovare occasioni eccetera 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 e l'ultimo è il secondo duello che sembra egli voler in qualche modo terminare attraverso anche una Pietas forse fuori luogo ma che gli si ritorce contro per tutto quello che ovviamente comporta il ribaltamento della situazione e quindi la perdita di una gamba eccetera 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 quindi questo è sicuramente un elemento di grande di grande spessore di grande rilievo di grande tentativo da parte di Kubrick di andare sempre a sviscerare l'elemento del carattere dei personaggi dell'analisi introspettiva e poi comunque sempre come anche con un finale aperto che ci dà come molti finali aperti dei stesso Kubrick che ci dà anche libero sfogo a poter dare noi un'interpretazione personale specifica di quello che egli ha così intensamente rappresentato quindi abbiamo parlato delle immagini abbiamo parlato della della musica una musica che si affida a musiche originali del Settecento ma in realtà ci sono anche elementi successivi come qualcuno ha storto il naso perché sono state utilizzate anche delle musiche dell'Ottocento ma secondo me è interessante anche nella scelta di un commento musicale che può in qualche modo essere la pietra miliare di un raccordo anche tra il passato e il presente Kubrick non ha mai degli elementi di spazio e di tempo predeterminati gioca con lo spazio e il tempo e questo lo vediamo in numerose pellicole pensiamo appunto a 2001 ma con l'elemento anche di Shining dove non si capisce mai quando è il passato e quando è il presente la percezione di quello che è accaduto quello che accade e quello che accadrà in qualche modo è tutta una sorta di ruota che spesso egli utilizza anche con delle vicende delle vicende atemporali e agronologiche pensiamo a Lolita stessa o pensiamo a quello sulla rapina adesso mi sfugge il nome del film degli anni 50 quello sulla rapina all'ippodromo quindi però diciamo che in qualche modo ci tentativo di una rapina qualcosa del genere mi sfugge adesso il nome però in qualche modo con un protagonista il Jack Ripper del nostro stranamore quindi in qualche modo abbiamo sempre un elemento anche costante nell'utilizzo di personaggi di attori e questo è importante anche per l'analisi degli attori di questo film abbiamo sicuramente Ryan O'Neill che è in grande forma la sua esperienza più importante più anche significativa che appunto non avrebbe mai secondo me uguagliato una rappresentazione di questo senso poi abbiamo Marisa Berenson che tra l'altro fu soggesso venne fatta pressione perché non doveva prendere il sole per rimanere pallida quindi anche un lavoro sui personaggi particolarmente intenso abbiamo Patrick Maggi e poi abbiamo Erdi Kruger che è un attore tedesco che io apprezzo tantissimo che ha fatto tante occasioni anche in cui interpretava l'ufficiale tedesco o comunque il personaggio ambiguo e tra l'altro sia Ryan O'Neill che Erdi Kruger li troveremo tutti e due nel 77 nell'ultimo ponte e poi Stephen Bercoff anche lui un grande personaggio molto molto cattivo lo troviamo in c'era in Giordano Bruno poi lo troviamo come cattivo in Rambo 2 in Octopussy in Piedipiatti a Beverly Hills il primo quindi diciamo che è un personaggio anche questo molto all'epoca ancora in erba possiamo dire ma che avrebbe avuto uno sviluppo di carriera assai assai variegata anche con la sua caratterizzazione del cattivo beh sotto l'aspetto tecnico l'abbiamo detto grande importanza all'elemento scenico all'elemento di immagine di musica tant'è che appunto abbiamo la fotografia di John Alcott con la sua veramente capacità intensa di rappresentare quello che vediamo e che l'immagine veramente un'immagine vale più di 100 parole questo sicuramente in questo film è ancora più amplificato le scene di massa le scene a cui appunto siamo quasi siamo quasi inseriti all'interno di questo di questa di questa sceneggiata di questo elemento finto ma che in qualche modo ci attraversa le formazioni militari le battaglie le radunate nei giochi della società quindi in qualche modo siamo quasi assorbiti da questa di questa ambientazione molto variegata che sia degli interni o che sia degli esterni e poi ovviamente non possiamo non citare le scenografie a sei mani ma principalmente abbiamo Ken Adam che io apprezzo tantissimo non fosse altro perché è stato uno dei scenografi più longevi e più importanti della saga di James Bond pensiamo a Fort Knox in Goldfinger per dire questa capacità di costruzione di elaborazione di idee di disegni che diventano realtà e ovviamente che era stato già con Kubrick in altre occasioni tra cui nel disegno della sala operativa in Il Dottor Stranamore quindi che sicuramente è uno degli elementi più interessanti della cinematografia di Ken Adam che tra l'altro avrebbe vinto vari Oscar tra cui anche per questo film e quindi diciamo che ci offre veramente un comparto immersivo immersivo nella fotografia nella scenografia nelle musiche nell'elemento multisensoriale che quindi rappresentano a pieno titolo la filmografia di Stanley Kubrick come qualcosa non soltanto di cinematografico ma quasi di avvolgente esistenziale dove l'elemento esistenziale ci viene raccontato attraverso appunto gli espedienti narrativi attraverso un carosello di personaggi ma in qualche modo rappresentano anche lo spettatore perché si immedesima e in qualche modo soffre anche egli all'interno dei patemi d'animo nelle gioie e soprattutto nei dolori dei personaggi da ultimo il comparto italiano grandi doppiatori a partire da Romolo Valli che fa la voce narrante Giancarlo Giannini che appunto doppia Barry Lyndon stesso Giancarlo Giannini che avrebbe tra l'altro doppiato anche Jack Nicholson in Shining insieme all'allora moglie Livia Giampalmo che faceva appunto pure lì io ho avuto modo tempo fa di conoscere Livia Giampalmo mi aveva raccontato che era lo stesso Kubrick che li aveva ringraziati lui e lei e Giannini per la grande interpretazione nel doppiaggio quindi è interessante anche il comparto dei doppiatori italiani che danno grande intensità grande sviluppo grande emozione e tra l'altro nella parte film abbiamo Solvi Stubing che chi ha qualche anno anche più di me la ricorda come testimonial per la birra Peroni e in tempi più recenti faceva delle presentazioni in canali improbabili dei locali della della rete laziale per film diciamo di anticipazioni cinematografiche e poi si è candidata pure in politica con risultati pessimi tant'è che come slogan aveva la politica a tutta birra ricordando quando faceva la pubblicità la birra Peroni diciamo che Solvi Stubing la ricordiamo per altre cose rispetto alla sua discesa in politica ma anche per aver doppiato il personaggio di Marisa Berenson in questa pellicola detto questo io quindi mi invito il 16 prossimo giovedì per la diretta su Stanley Kubrick insieme a Mauro Lottici a Raffaella Capitella e Luca Mib Paoloni ma già da oggi abbiamo un elemento un tassello in più nell'analisi della scenografia di Stanley Kubrick anche in questo canale detto questo come al solito vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao ciao